Aspettate Dico subito scusa per il ritardo, scusate per il ritardo perché è stata festa vacanze pasquali quindi non ho potuto fare il video inerente a Lazio Spezia, quindi lo faccio l'ho caricato oggi appunto perché era l'unico momento che avevo. Allora sarà un video molto rapido senza che faccio troppi giri. Che posso dire della partita? La partita è stata una partita appunto difficile perché lo Spencer è una buona squadra, sta facendo un buon campionato quindi comunque ha giocatori che stanno crescendo, stanno facendo bene come tutta la squadra quindi è una partita che dove veramente sì e no provare proprio se dovevi vincere dominando forse tipo 2 3 a 0 perché adesso veramente lo Spencer è eseguito molto molto bene. Che si può dire? Si può dire che noi però siamo in un momento in cui ovviamente non riusciamo a segnare invece di più, non riusciamo a segnare tanti gol perché siamo a corto lì davanti, chissò che Ciro si è fermato e vedremo quando riuscire a rimettere la palla in rete per provare casomai a riprendersi un po' anche se comunque Cervi sono un attaccante vero che cambia immobile perché immobile comunque non ci può stare per tutta la vita così come Cervi così come lei va anche quindi devi personalmente acquistare quindi se stare voglio una squadra rivoluzionata rivoluzionata con sempre l'obiettivo proprio di andare sempre in champions però comunque trascendo questo inizia la partita che ecco primo tempo, un nuovo tempo un po' così perché comunque la Spezia attacca, lo Spezia già c'è in partita già provava subito a farci male e noi ecco sì e no due tre occasioni così nitide ma niente di che ovviamente Spezia si mangia un gol fatto con Maggiore se non sbaglio quindi maggiore se non mi ricordo ma anche forse gol fa di gas se non mi sbaglio quindi veramente stavamo non stavamo giocando veramente col piglio giusto e quindi ecco sinceramente abbiamo rischiato c'era il primo tempo poi secondo tempo diciamo che siamo voci di entrare in campo con più consapevolezza di dire oh no dobbiamo fare tre punti qua perché tocca prendere il quarto posto anche se il quarto posto è veramente veramente difficile perché c'è un'Atalanta che non si ferma al Milan più o meno comunque sta sempre lì cioè non si è sposta a meno che veramente c'è un calo vero e proprio quindi no tu devi fare tre punti comunque perché tu tre punti tre punti tre punti metti caso che l'altro imbroccano male imbroccano male ne puoi approfittare ne puoi approfittare quasi come la Roma la Roma pareggia la cosa solo tu hai vinto 2 a 1 con la Spezia in casa sofferta non lo spegono tutto bene però l'hai scavalcati quindi comunque proprio uscire da una situazione non semplice e niente secondo tempo il partito in generale è detto non perfetti perché poi in secondo tempo due espulsioni dopo veramente cioè due espulsioni appunto sull'1 a 1 dove il primo gol lo fa Lazari su una grande palla di Correa che poi non mi è piaciuto che niente non è giocato è rientrato anche Zut in Porta l'ho visto dopo ma nel secondo tempo ho visto che è entrato Zut che c'è pure il Fanta Caccio Mortacci di sé e 1 a 0 poi 1 a 1 De Verde rovesciata così a caso 1 a 1 e quindi niente è 6 madonna perché poteva essere un attimo che piavamo il 2 a 1 loro quindi siamo stati un po' così a cacasse da sotto un attimo perché veramente se no questa squadra si sa pia un gol del genere inaspettato ci vuole poco a Nade sotto e a Piergò quindi intanto ho cambiato mano perché con quest'altro ne sto a fa male niente che devo dire poi ecco 1 a 1 espulsione di Lazari che per me c'è stata poteva Gudelo perché veramente mi sta veramente per sponare la carriera a Lazzari mi sta veramente per stroncare la carriera a Gudelo e invece giallo a lui non sta a Lazzari quindi 1 non ce l'avevo per il vero ne dico vabbè vabbè ci può stare comunque la partita sta a finire 2 a 1 no scherzo a dirvi 2 a 1 sarà 1 a 1 o 1 a 1 o 2 a 1 ah no 2 a 1 è vero perché poi entra Caetale e ci fa vincere la partita su rigore che questo appena entra decide sempre la partita è vero 2 a 1 poi rosso di Lazari che per me doveva essere rosso pure appunto per a Gudelo poi Correa che mannaggia quel cribbio no aspetta un atto questa la devo fare questa la devo fare mi spiace mi fa tutto il tempo mi vieni ma la devo fare questa cioè Correa io dico palla che ce l'hai tu la riprende Caetano se la cerca di tenere la linea bandierina più distante possibile della porta nostra perde palla Caetano che la toccano così Correa c'è ancora palla però la riperde Correa perde il pallone come un mongoloide per fare tipo la suola lì la tassa di suola entra e sciolata lì che la sua guapa una gommella chi è interna ne sa primavera quello che è gli entra sul piede a me sa proprio un martello gli entra se non mi ricordo male rosso merita rosso che c'è questo qua c'è veramente rosso perché era già stata munito e quindi rosso la Corea che niente noi fine partita due espulsioni due espulsioni e non mi è scesa giusta la cosa perché adesso facciamo il Verona Verona ha vinto col Cagliari e è tosta perché le mani va a giocare la Verona lì e senza Correa Lazzari io non so che sto per un momento a meno che i mobi non si risveghi e segna ecco Giamo penso potrebbe far giocare a Cagliari perché se ne fa giocare a Morici dei primi minuti col Verona diciamo che è un po' annata la situazione è un po' annata quindi niente che devo dire so che a far di lunga tra posto video detto tre punti che ci vanno bene ci vanno bene perché avevo presi sempre con Cagliari perché sempre Cagliari è l'unico che ci mette le palle quando entra in campo e l'unico che ci mette le palle quando entra in campo ci fa vincere partite ci fa vincere partite ci fa vincere su rigore bel rigore di Kaesedo veramente bello io lo amo io Kaesedo lo amo lo amo Kaesedo ha un'intelligenza ha un'intelligenza fuori dal comune cioè veramente entra e veramente già sa quello che già sa che deve segnare prende lui il pam bu rigore rigore che c'era rigore che c'era perché quello proprio col gomino così dopo a toccarla dopo a mannarla fuori dopo a toccarla quindi Kaesedo 2 a 1 2 a 1 ovviamente sempre a soffrire sempre perché manca di più sai ci sai 87 ma diciamo provi casomai a difendere casomai un altro contro vede che fare no invece mi esano chiusi lì se siamo chiusi lì e poi due rossi vanno finita là due rossi e lazare e core asalto in verona quindi niente regà questo era il video ci va pure troppo lungo però comunque per spiegarvi comunque la partita ho detto carica adesso perché ci sono state le vacanze pasquali però dai caseto ci ha fatto ci ha fatto vivere delle buone ci ha fatto stare tranquilli in queste vacanze quindi però adesso vediamo col verona vediamo col verona che succede io spero che ciro si riprende perché se no va veramente finirà comunque sempre forza lazio sempre e comunque sempre e comunque forza lazio detto bene i tre punti però col verona voglio vedere che succede voglio vedere che succede saluto belli legati grazie